Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Mi scuso al solito se sentite un po' di ventilatore, però purtroppo siamo ad agosto e si muore dal cardo, speriamo duri quantomeno. Oggi, dopo un po' di tempo che mi è arrivato, riesco finalmente, anche grazie al nuovo ufficio, al nuovo spazio, a presentarvi Forbidden Fortress, gioco sempre tratto dalla saga, come vedete l'amante, di Shadow of Grimstone, a cura della Flying Frog Productions, che io ringrazio veramente di cuore per avermi offerto questa copia per la recensione ed altro materiale, ed è un dungeon crawler fra i più belli e di più gettonati, veramente in campo da tutti gli amanti dei giochi da tavolo, ma soprattutto dei dungeon crawler, e l'unico lato negativo è che il gioco in edizione italiana non si trova e va ordinato da fuori Italia, direttamente dalla Flying Frog. Però, c'ho una bellissima notizia e devo fare un saluto a un ragazzo che è un grande, veramente è un grande, a fine video, quindi guardatelo fino in fondo perché c'è la possibilità di avere tutti i contenuti del gioco tradotti in italiano completamente. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Forbidden Fortress, appunto, un'espansione, diciamo un gioco stand-alone della saga di Shadows of Grimstone, a cura ed editore, unico editore, la Flying Frog Productions, che sono appunto produttori ed editori del gioco, e purtroppo, come ho detto, non si trova tradotto in italiano e una retail italiana secondo me non si troverà mai, è un gioco che parte, almeno nella sua incarnazione principale, ambientato nel vecchio West, un West particolare, molto anche, se vogliamo, Lovecraftiano, si vedono creature un po' che escono tipo demoni dagli incubi, un po' anche se vogliamo dai romanzi di Lovecraft, o comunque qualcosa di molto ispirato, ed è un gioco che piano piano negli anni ha giocato molto sul fatto dei portali, infatti nelle regole del gioco si trovano spesso dei portali che ti portano verso altri piani o verso altre dimensioni, c'è un'espansione che vi manda a bordo di una nave infestata da alieni, tipo Alien, c'è un'altra espansione che invece vi manda in una giungla, c'è un'altra espansione dove vi mettono contro, se non erro, il settimo Cavalleria, tutti quanti morti, tornati in vita del West, quindi veramente cose bellissime, e si sposta fra varie ambientazioni, quindi è bellino anche quando vi fate la partita, che il vostro pistolero magari tipo Wild Bill Eacock o Doc Holiday si ritrovano su una nave infestata da alieni, quindi è veramente bella come idea, ci sta, cosa che poi potete anche tranquillamente non usare a livello di regole di gioco, però è bellina, e una di queste espansioni stand alone, che poi è diventato un gioco stand alone vero e proprio, è Forbidden Fortress che ci riporta nel Giappone feudale 1550-60, periodo Edo dovrebbe essere, e ci porta in questo Giappone feudale dove un meteorite si è schiantato sulla montagna sacra ed ha praticamente portato il male sulla terra, c'è tutta quanta una storia che non vi sto a spoilerare perché la scoprirete mano a mano che giocherete nel libro delle missioni, libro delle missioni che a fine video poi vi dico dove trovare in italiano. E quindi c'è tutta quanta questa avventura dove voi siete un gruppo di eroi, un ninja, un monaco, uno shugenja o comunque, vabbè, uno stregone dell'abilità mao giapponese, e poi abbiamo un samurai, quindi classico montaggio da dungeon crawler o anche da moh, se vogliamo, e dovrete entrare all'interno di questa fortezza, appunto la Forbidden Fortress, e dovrete fare il possibile non solo per ripulirla, ma per far sì che l'oscurità che alberga e viene incanalato dentro questa fortezza non riesca a scappare, perché se questa, voi siete l'ultimo baluardo, se questa oscurità dovesse scappare fuori andrà a corrompere e a distruggere tutto il mondo generando demoni e cose del genere. Quindi comunque direi che le premesse per un'ambientazione da paura ci sono assolutamente e vi faccio vedere un pochino come funziona, ma prima di tutto unboxing. Confezione del gioco, veramente immensa, questa è la mia mano, guardate quanto è grande, pesa tipo 8-9 kg perché è piena zeppa di roba, le miniature sono abbastanza, non sono tantissime, comunque per giocare la scatola di base basta ad avanzare, più che altre è piena zeppa di tile di gioco, dadi, carte, quindi è bella pesante anche per quelle, guardate il disegno che c'è sopra, c'è un quadro, uno ci dovrebbe fare un poster. Veramente bellissimo il gioco della Flying Frog, gioco completamente cooperativo. Apriamo. All'interno abbiamo il regolamento di gioco, che è bello corposo, ha tante cose, però veramente ragazzi se io vi dico questo gioco viene dopo HeroQuest, mi dovete credere perché è veramente facilissimo come regole. Sì, magari serve una partita per prenderlo a fondo, per capirlo tutto, però ha pochissime regole, tra l'altro è spiegato veramente molto 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 bene. Poi abbiamo tutte queste tabelle, la tabella del metagame che vi spiegherò dopo, che quando andate in città vedete c'è la taverna, più lo shop, più tutte le cose, più lo shrine, sono tutte le cose, tutti i luoghi che potete visitare un po' a mo' di open world quando finite il dungeon, fra un dungeon e l'altro. La tabella del villaggio feudale, sempre quello che andate a visitare, e tutte le altre, tutti i dati luoghi che potete andare a visitare tirando il dado e che con un'espansione invece potete proprio vivere in prima persona con le miniature. Il libro dell'avventure, dove c'è spiegata tutta la campagna, la lore, e tutta quanta la campagna, le varie missioni con i setup. Il CD, con le colonne sonore ufficiali da ascoltare quando giocate a Shadows of Brimstone, ma soprattutto a Forbidden Fortress, cioè, spettacolo. Dadi, il gioco usa unicamente i dadi a sei facce. Dadi particolari, tipo quello che serve per stabilire gli incontri, quando gli incontri non sono sicuri sulla carta, magari vi dice tirate un dado per sapere quanti mostri usciranno. Un catalogo, ormai comunque del 2020, ma guardatevelo dell'uscita della Flying Frog. Le schede dei mostri, che tanto ora poi in fase di spiegazione vi vado a far vedere da vicino. E poi, qua giù, abbiamo tutti quanti i mazzi di carte che vanno a comporre l'equipaggiamento, le abilità dei personaggi, le carte incontro, le carte scavenge, le carte loot, le carte trappola. Insomma, ci sono veramente tante belle carte. Guardate là la qualità delle miniature, in plastica, che spettacolo. Questa è una specie, sembra quasi lo Yin e lo Yang. È un boss, ovviamente, uno dei boss da combattere all'interno della fortezza. Un Oni, classico, col mazzone, te lo spacco fra capo e collo, guardate che spettacolare. Un mostro elite che potete trovare all'interno della fortezza. Questo dovrebbe essere, secondo il folklore e le leggende, un Tengu. Guardate bello, con le ali, quindi mostri volanti, da corpo a corpo con la katana. Un vermone, che è il mostro di base, che poi è lo stesso che trovate anche nella variante western, in Shadows of Brimstone. Il monaco, che è uno dei quattro personaggi che potete utilizzare perché è un gioco cooperativo. Il monaco, buon picchiatore e curatore, più che altro. Il samurai, variante da corpo a corpo, che ha delle regole particolari, perché ogni ferita che fa si carica di furia e quindi diventa sempre più forte. Quindi lui è il picchiatore, il Teng. La maga, o Shugenja, che dir si voglia. Quindi personaggio castante, dalla distanza ed è di una potenza disumana. Questo è il classico personaggio che dovete tenere un po' nelle retrovie, non è da corpo a corpo. E poi, la più bella di tutte in assoluto, la ninja. Il personaggio, per fare il rogue o l'assassino, sempre in variante Morpheg, ti nascondi, colpisce alle spalle, insomma ha dei vantaggi a colpire il nemico che non si aspetta del suo arrivo e fa dei danni veramente disumani, però non ha mai la prestanza del samurai. E una guardia della fortezza, un samurai deceduto, ritornato in vita, che tra l'altro sono gli unici mostri nel gioco ad avere un'armatura. Quindi anche allora è concesso il tirarmatura. Questo è quello che vi si presenta quando andate a diffustellare tutto il contenuto di Forbidden Fortress. Quindi, tile della mappa, ovviamente doppia faccia per il ventre della bestia e per la fortezza normale, una marea di token, goccia a fiamma, e poi un casino di carte e delle bellissime miniature, perché le carte comprese nella scatola di base del gioco sono tante, ma non vi mettete paura, sono di facilissima lettura. Ad esempio abbiamo l'oscurità Darkness, che l'oscurità, questo mazzo qui, entra in gioco quando sul tracciato della missione, partendo da qui, vedete ci sono delle caselle verdi e delle caselle rosse. Questo è il turno dei giocatori, questo è il turno dell'oscurità, che quando arriva fino in fondo scappa e avete perso la partita. Comunque, quando arrivate su una casella rossa, dovete girare una carta Darkness, che è questa qui, quando invece arrivate su una casella verde, c'è scritto Growing Dead, dovete girare una di queste carte qui, sono tipo gli eventi, no? Per vedere un pochino cosa succede. Poi abbiamo, ad esempio, il mazzo Scavenge, per quando andate a vedere cosa c'è in una stanza, a trovare oggetti, il mazzo Loot, magari sconfiggendo le mosti vi rilasciano della roba, il mazzo della Statua Vivente, che è questo qui gigante che vi ho fatto vedere in fase di unboxing, quindi sono collegate a lui, oggetti personali, che è un oggetto che il personaggio si porta dietro, magari un ciuffo di capelli, qualcosa che ha un grande valore per lui, o una spada di famiglia, incontri, quindi incontri che si possono fare, eventi, equipaggiamento, gear, poi da questa parte ci sono tutte quante le abilità dei personaggi, perché magari qualcuno vuole fare il guerriero che fa tanti danni, o il guerriero che assorbe più colpi, quindi la specializzazione, incontri epici alti, medi e bassi, e questi vengono scelti o da qualche carta del gioco, o a seconda di quanti siete. Se fate una partita in tre giocatori, andate a pescare da questo, in due giocatori da questo, e in un solo giocatore con questo, perché giustamente quando giocate da soli, devono essere un pochino più facili i mostri. Poi, di qua abbiamo la mappa, quindi le carte che è andata a girare per costruire il dungeon, man mano che le esplorate, vi dicono sempre cosa andare a mettere, e qua gli artefatti, più tutte le magie, magie oppure abilità dei personaggi. Quassù abbiamo il ventre della bestia, che è l'altra mappa, ve l'ho detto double fast, però ovviamente non vi vado a spoilerare niente, e sono le carte per costruire il ventre della bestia, tutte quante le carte artefatto, incontri, passaggi collegati a quest'altra variante della mappa, e equipaggiamento di partenza dei personaggi. Poi qui abbiamo le carte dei personaggi, in questo caso vi faccio vedere la carta del ninja, dove sono segnate tutte le caratteristiche, che vi serviranno per fare le prove, l'iniziativa ovviamente alla D&D per i combattimenti, tutte quante le abilità del vostro personaggio, e qua sotto c'è scritto il numero di dadi che tira, il massimo di grit, il grit serve per ritirare i dadi, e vi dà anche effetti speciali, quanto ci vuole per colpire con range, quindi tirate un dado, di solito quello bianco è quello dei giocatori, degli eroi tirate il 4, quindi dovete fare il 4 o più, o altro più in corpo a corpo, ha 10 punti ferita, ha una difesa di 4 o più, sembra di giocare a Warhammer, come vedete è molto semplice, ed ha un livello di sanità, perché si può morire in due modi, o arrivando a 0 punti ferita, o arrivando a 0 punti di sanità mentale, quindi il vostro personaggio è KO, e potrebbe morire, o il vostro personaggio è KO, e potrebbe impazzire, mentre invece le schede dei mostri, che bene o male sono uguali, rivediamo un attacco range, un attacco melee, quanti dadi tira in combattimento, quanti danni fa, perché i mostri fanno danni costanti, i mostri fanno ad esempio questo, 3 danni, se ti becca fa 3 danni, gli eroi no, per ogni tiro che va a segno, di questi due, e che fa, che ne so, 3 o più in corpo a corpo, devono ritirare un altro di 6, se fanno da 1 a 5, hanno fatto da 1 a 5 ferite, se fanno 6, hanno fatto una ferita da 6, però che passa tutte le armature, quindi l'armatura, se il mostro ne ha, non conta, ovviamente la difesa, là dove il giocatore si difende, l'eroe tirando un dado, il mostro ti toglie sempre al danno, la vita, e tutte le abilità speciali, e anche l'iniziativa del mostro, questo in cima, e il size, la dimensione, quanto prima, faremo una partita, e la registreremo, perché ho una voglia disumana, di provarlo veramente, ci sto morendo, comunque i tile di gioco ragazzi, guardate sono immensi, sono veramente immensi, queste sono tutte caselle, queste sono tutte caselle, dove vi potete muovere, e poi sono doppia faccia, perché dall'altra parte, c'è il ventre della bestia, e guardate belli, ovviamente qua, questo qui è quello di partenza, l'entrata della fortezza, quando vedete, c'è sempre un attacco qua su in cima, quando andate a esplorare una zona, voi dal mazzo, che vi ho detto precedentemente, nel caso normale è questo, andate a girare una carta, guardate cosa viene fuori, l'andate a cercare fra i tile, e poi l'andate a montare nel punto qua giù, se ovviamente non si potesse collegare, non si potesse collegare al punto qui, ne pescate un'altra, e ci sono veramente dei tile, che sono tipo corridoi, guardate questo, spettacolare, col simbolo dell'imperatore, dovrebbe essere della famiglia imperiale, o dello shogun, guardate là, e poi ve l'ho detto anche dall'altra parte, sono veramente immensi, guardate questo, ma guardate com'è fatto il colore, la colorazione, la luce, tutto quanto, è veramente bellissimo, e ragazzi, vi dovete semplicemente spostare sulla mappa, fino a che non trovate i vostri obiettivi, e quando entrate in una mappa, ci dovete sempre mettere un token, di scavenge sopra, perché vuol dire che la stanza, è già stata perlustrata, o nel caso, fra tutta questa merida di token, ci dovete mettere sopra, un token di encounter, cosa succede? C'è un incontro, ok, c'è un incontro, voi l'andate a pescare qua giù, e leggete cosa c'è scritto, è una prova di abilità, e l'andate a risolvere, oppure, se c'è un attack, andate a girare le carte dei mostri, per vedere che tipi di mostri, entreranno in campo, e le andate a schierare sul tavolo, o se no, se fosse un attacco, ambush attack, schierate direttamente i mostri, però già in corpo a corpo, con i personaggi, ed agiscono loro, anche se hanno iniziativa più bassa, ragazzi, quanto prima, vi farò vedere una bella partita, ma guardatela, il contenuto, direi che è ricchissimo, in conclusione, Forbidden Fortress, per me, ma c'è una community italiana, che è disumanamente grande, e per tutti gli amanti, appunto, dei dungeon crawler, e del fantasy, è un gioco che non vi deve mancare, sia in chiave, Shadows of Brimstone, quindi nel West, che Forbidden Fortress, ambientato nel Giappone feudale, perché sono due ambientazioni, completamente differenti, una più da corpo a corpo, una più da sparare, ovviamente, a tempi del West, con fucili, pistole, e tutto quanto, ma è veramente bellissimo, e poi sono quasi, non vi dico interscambiabili, ma quasi, perché ve l'ho detto, con questo fatto dei portali, vi potete spostare, praticamente, su varie dimensioni, e c'è uno sbotto, un sacco di espansioni, che io vi consiglio, soprattutto quella del villaggio, perché come vi ho detto, a fine partita, nella fase di metagame, potrete visitare un villaggio, e in questo villaggio, c'è da fare vari tir di dadi, perché oltre a poter andare all'e-shop, e potenziare i vostri personaggi, che vi porterete dietro, per tutta la campagna, ci sarà la possibilità, di avere incontri, di parlare con NPC, o anche magari, spararsi o picchiarsi, con bande particolari, o clan nel Giappone feudale, e hanno fatto loro proprio, per levare questo tiro di dad, hanno fatto delle espansioni, dal costo abbastanza ridotto, dove proprio andate, non solo andate a tirare il dado, ma proprio create lo scenario, anche per quando non siete, dentro il dungeon, quindi è una figata, perché diventa una specie, di open world, disumano, cioè ti viene da pensare, a Gloom Amen, una cosa del genere, le regole sono, di una semplicità disarmante, c'è un regolamento, di 40 pagine, che uno lo vede, fa no, vabbè, ora mamma, ora mamma, quanto c'ho da legge, ragazzi, le regole più facili, di questo mondo, ci sono tanti valori, ma veramente, è uno dei giochi, più facili del mondo, veloce da intavolare, veloce da spiegare, e rapidissimo, da giocare, da portare avanti, qui una partita non basta, qui è droga, qui dopo aver fatto una partita, andrete avanti nella campagna, come vedervici, quindi, io ringrazio di cuore, la Flying Frog Production, per avermi offerto, questa coppa per la recensione, grazie ragazzi, è un onore disumano, poter collaborare con voi, vi lascio il primo link, in descrizione, dove andarla ad acquistare, e il secondo link, la pagina italiana di Shadows of Brimstone, la community italiana, su Facebook, dove, Simone Grillenzoni, che è un grande, e oltre ad essere l'amministratore del gruppo, sta traducendo tutti i prodotti, della Flying Frog, in italiano, carte, libro dell'avventura, regolamento, quindi, trovate il gioco, praticamente, tutto in italiano, ovviamente, non è una cosa ufficiale, è una cosa amatoriale, però, fatto da paura, e ve lo potete andare a stampare, ci avete tutto, se volete stampare le carte, ci avete anche le carte, in italiano, sta facendo un lavoro disumano, e io lo ringrazio di cuore, perché, insomma, è grazie a lui, se riusciamo a giocarci nella nostra lingua, purtroppo, non ho un negozio sponsor, perché sto cercando, insomma, di trovarne uno nuovo, quindi, al momento, vi mando direttamente, primo link in descrizione, sul sito della Flying Frog, per ordinarlo, e ragazzi, è uno spettacolo, se siete fanatici, delle belle miniature, dei bellissimi dungeon crawler, delle belle storie, dei giochi lunghi a campagna, ma soprattutto, dei regolamenti semplici, questo è il gioco, in assoluto, che fa per voi, per me, è un capolavoro, passate appena i voti, fatemi sapere cosa ne pensate, ciao ragazzi, alla prossima!